La giornata contro la violenza sulle donne, dibattiti e convegni un po' dappertutto. Vediamo il servizio. Si è svolto sabato 24 novembre al Jolly Hotel di Caserta un convegno dibattito curato dall'associazione Criminalt dal titolo La Donna E. Due esperte in criminologia, la dottoressa Maria Rosaria Alfieri e la dottoressa Antonella Esposito, hanno illustrato il percorso compiuto nel corso delle varie epoche dalle donne, alla riconquista di quelle pari opportunità che tanto spesso siamo abituati a sentir citare. Violenza sulle donne è compiuta dalle donne, donne in guerra, spesso anche fra di loro, donne che subiscono la guerra, stalking, pedofilia in rosa e le strategie da adottare per arginare questi fenomeni, gli altri argomenti trattati anche grazie a relatori come Catiuscia Raneri, videoreporter spesso inviata nei paesi del Medio Oriente, e il giornalista Germano Milite, curatore del portale mediatico Young, presenti in sala psicologi, sociologi e rappresentanti di associazioni come Spazio Donna, che hanno interagito con i relatori approfondendo gli argomenti proposti.